Musica Carissimi spettatori, bentrovati a questa edizione del TG Mattina, la primissima informazione della nostra emittente. Oggi è mercoledì 30 ottobre 2024, San Germano e subito le prime pagine dei quotidiani. All'Università del Piemonte Orientale si insedia il nuovo rettore, stiamo uniti, cerco il dialogo. Menico Rizzi succede a Giancarlo Avanzi, ieri sera la cerimonia nel teatro di Vercelli. Così la prima pagina locale della stampa, poi parleremo della compagnia di Irene Tassenbedo del Burkina Faso, che apre la stagione di danza a Verbania al Maggiore, il ballo come arma di speranza. Le nuove sfide dell'Università del Piemonte Orientale, Vercelli il passaggio di consegne, tra Giancarlo Avanzi e il nuovo rettore dell'Università, Menico Rizzi, vorrei che il mio mandato fosse all'insegna del dialogo e del coinvolgimento, ma dobbiamo essere uniti, dobbiamo essere più attrattivi nei nostri territori, ma si esplori la possibilità di una sede all'estero. Tra benemerenza e commozione, il commiato a cinque colonne dell'Ateneo, in un teatro gremito, l'attribuzione dell'attestato a Astori, che l'avevamo visto nello scorso gennaio, quando arrivò a Vercelli il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, il valsesiano Gianfranco Stori e consigliere del Capo dello Stato per la Comunicazione. Ieri appunto ha ricevuto la benemerenza dell'Università del Piemonte Orientale. Poi il saluto ai docenti, assente Barbero, i quali vanno in pensione. Poi Loredana Segreto sarà direttrice amministrativa alla Sapienza dal primo novembre, la prestigiosa nomina triennale a Roma. Un distretto del riso solido ha bisogno di alleanze ampie. Cristina Brizzolari, Presidente di Coldiretti Piemonte, produttrice tra Noverese e Vercellese, la proposta dell'assessore regionale Bongioanni la convince e rilancia, le sinergie devono essere regionali. Bisogna lavorare alla promozione che passa anche da cultura e tradizioni del prodotto. Cressa senza medico, trovino un sostituto, parte la protesta, da domani il dottor Franco Caligari va in pensione, unica alternativa per ora è andare in un paese vicino. Il sindaco Ilaria Zola dice, disposti a tutto per assicurare l'assistenza. Inaugurazione a Casalino, le ex medie diventano un centro ad hoc per i disturbi alimentari dei minori. A Oleggio, una sede per il liceo scientifico nel Palazzo Mazzeri, la giunta Baldassini ha già il sì dell'istituto. Il sindaco ora aspettiamo la regione. A Castelletto Ticino, infiltrazioni d'acqua, le scuole elementari. Poi a Rona cambia l'accesso agli atti e un attacco alla trasparenza, modificato il regolamento comunale, attese più lunghe i consiglieri di impronta civica insorgono. E a Gagliate, in consiglio questa sera, il progetto deve log alla prova del voto l'area logistica nella zona di Pernate. Poi l'argine del Sesia, che viene sistemato con lavori a tempo di record a Carpignano Sesia, dopo il rischio esondazione dei giorni scorsi. Chef solidali a Borgomanero, donati oltre 11 mila euro e ricavato delle due serate di Stelle e Padelle. E' finita dopo 36 ore la fuga a Milano di due adolescenti. A Domodossola, lunedì, anziché entrare a scuola, avevano preso un treno. Ieri sera il ritrovamento, una è tornata a Fondottoce, l'altra era a Rò. Nascite in calo, il VCO verso l'inverno demografico. Tra i residenti ci sono tre anziani e ogni bambino. Nel 2033 il rischio è finire sotto quota 150 mila. E ancora palestra, aperto il cantiere, c'è solo un anno per i lavori. L'impianto sportivo dell'alberghiero Maggia di Stresa costerà più di 5 milioni. Futuro delle scuole all'incontro decisivo. Il presidente Lana era assente. Il centrosinistra accusa il presidente della provincia di scarso interesse. La replica una riunione tecnica. Intanto resta il duello per il liceo sportivo. Nel volto di una bimba il messaggio di pace dei 40 giorni di libertà. Domodossola ha inaugurato il murale dedicato alla Repubblica Partigiana. È stato realizzato da Patrizia Pollato nel cortile delle elementari Milani. Baceno unisce in una sagra la semplicità delle mele con la dolcezza del miele. Da venerdì a domenica la 32esima edizione. Altri appuntamenti. Arona celebra San Carlo con visite speciali e musica. All'ombra del Colosso sabato al via le manifestazioni per i 440 anni dalla morte del santo. Si esibiranno i cori Tre Ponti, San Giorgio e Anomala Brass Band. Iniziative fino a lunedì. Appuntamento in biblioteca. A Novara giovedì letterario in trasferta a Briona dedicato all'esodo istriano nel Novarese. L'estro della chitarra di Eric Lugos sul palco di Gozzano al teatro della Società Operaia venerdì alle 21. Franco Castelli racconta i cittadini europei d'oggi al convitto Carlo Alberto a Novara. E poi sempre a Novara stasera alle 21.15, Grande Nulla Agricolo, il podcast dal vivo a Nova. E lo spettacolo di René Tassembedo, Cultura e danza, occasioni per costruire speranza. La coreografa del Burkina Faso unisce tradizione e ritmi contemporanei. Stasera al Teatro Maggiore di Verbania, la prima italiana desescuar. E poi lo sport regge il muro del Novara, salgono a sei risultati utili. La squadra di Gattuso ferma una big del girone mostrando carattere 0-0 contro il Vicenza. Prossimo turno ancora in casa sabato con il Caldiero. Inizio di Serie A da urlo per Agnese Bonfantini. Nel calcio donne in vetta la classifica dei gol realizzati. La Verbanese è già sei volte a segno con la Fiorentina. Azzurra a Lodi nel recupero insegue la prima vittoria nell'hockey su pista. E poi Igor è la serata del derby con Cuneo. Il libero di Novara Denardi è un avversario da non sottovalutare a giocatrici di qualità ed esperienza. La prima pagina nazionale della stampa il voto in Liguria. Spacca i democratici. Pressing dell'area Bonaccini sulla leader PD. Basta veti di Movimento 5 Stelle. Renzi perso per Conte. Ora un codice etico. Paesi sicure. L'Ite, Toghe, governo. Ricorso alla Corte europea. Per questo decreto legge anche la Germania nazista sarebbe più sicura. Palazzo Chigi schiera l'avvocatura. Spioni, incontro col Mossad e dossier per la Chiesa. Pene più alte agli hacker. La Premier ferma Salvini. E ogni giorno ci sono aggiornamenti su questa situazione che diventa davvero preoccupante per il numero di persone coinvolte sia tra spiati sia tra coloro che spiavano e per conto di chi è questo che l'inchiesta dovrà appurare. Poi la situazione in America non meno tesa per social fight. Trump e Harris. La campagna si gioca in rete ma dure sono anche le parole. Lo leggiamo nelle ultime notizie giunte dagli Stati Uniti. Biden l'unica spazzatura che galleggia sono i fan di Trump. Ed è andato abbastanza pesante. Harris dice che Putin e Kim Jong-un fanno il tifo per Trump perché è facile da manipolare. Trump è instabile, vuole un potere incontrollato. Poi tra le notizie, tra le ultime notizie c'è una notizia molto importante che arriva dall'Ucraina, da Kiev, in pratica verranno arruolati altre 160.000 persone nelle forze armate. Dunque altri giovani presumibilmente che andranno al fronte. E poi si parla di un altro fronte, quello di Gaza, con una agonia, una nuova strage di bambini. La popolazione è alla fame e la situazione nel paese è ormai oltre il collasso. E poi la tragedia di Matilde. Ne avevamo parlato ieri. C'era ancora qualche debole, flebile speranza per Matilde Lorenzi. 19 anni, morta sulle piste da sci durante l'allenamento, i genitori di Matilde allo sport. Chiediamo di dare un senso a tutto questo dolore. Il sole 24 ore, gli USA preoccupati, terribile ride su Gaza, troppi bambini uccisi e per il bando dell'Urva ci sono proteste anti-Israele. Il mondo è indignato, sarà una catastrofe umanitaria. IRPEF, il 15% degli italiani, paga per tutti. Brutte notizie per chi paga regolarmente le tasse e itinerari previdenziali. 6,4 milioni di contribuenti versano il 63,4% dell'imposta. Circa il 45% degli italiani, cioè 26,3 milioni di persone, non dichiara alcun reddito. E questo è davvero preoccupante. E poi la Davos Saudita punta sull'intelligenza artificiale il forum economico che si sta tenendo a Riyadh. In chiusura il meteo. Tempo poco nuvoloso, non è cambiato nulla rispetto a ieri. 9 gradi la minima, 18 gradi la temperatura massima. È tutto per oggi, vi auguro una buona giornata. Appuntamento domani, sempre a partire dalle 7. Arrivederci.